Michelle Impossible! Ciao ragazzi, ciao! No, no, non è una guffata! No, però dico, siamo qui insieme subito, tiro mancino un'ora impossibile, yeah! Beh, 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 si va avanti, gli amori sono sempre impossibili, però guarda, Michelle Impossible, alla fine la missione impossibile diventa possibile! È vero! Tom Cruise ce lo insegna, no? Lui fa delle mission e poi le porta a casa! No, ma io tutte le volte che guardo Mission Impossible con Tom Cruise, dico, ricordiamoci anche gli anni che ha! Facca l'idea! Lui fa tutto! Tutto! E poi non vuole le controfigure, fai che litiga con tutte le assicurazioni, però è il numero uno! Mi vedo anche un po' degli insert di narcisismo, quelle robe faccio tutto io! Molto, molto! Però quando fai ganassa da te e sei Tom Cruise e lo sai fare, cosa cacchio gli vuoi dire? Anche perché io non ci esco insieme, quindi lì va benissimo! Michelle, sono contenta che sei venuta qui! Anche io! Grazie di essere passata da me proprio all'interno del gruppo Radio Mediaset per raccontare questo terzo anno consecutivo di questa varietà che torna... Guarda, lasciamelo dire, io parlo in maniera molto libera. Finalmente, da quando tu hai portato il tuo Mission Impossible, che poi è diventato Mission Impossible Friends, Parleremo poi di tutte le novità di quest'anno, dell'energia, eccetera, ma è ritornato il varietà che per me mancava con la voglia di divertirsi, di far divertire gli ospiti che ci sono, di far uscire in tutti quel lato divertente e spiritoso che ognuno di noi dovrebbe avere. E' quel varietà che ci piace tanto, con il quale siamo cresciuti, è un po' il DNA di noi che... boomer, dai, siamo un po' boomer, però con figli e quindi innovativi. Quindi noi abbiamo portato il varietà, l'abbiamo reso comunque moderno e sono troppo contenta. È stato il sogno di una vita, ho aspettato 27 anni di carriera senza frignare. Io ho detto, senti, un prima, poi arriverà, è arrivato e quando ogni tanto le persone, tipo il pubblico che viene a vedere, va a casa dopo sette ore di registrazione e mi dicono, mi dicono, è stato bellissimo, capito? Perché proprio non sono neanche stanchi perché si crea una sorta di magia tra emozione perché noi facciamo un programma che è scritto su misura, quindi è come se fosse sartoriale su ogni ospite che arriva per portare delle cose nuove di questa persona. Lui, vediamo sempre i cantanti che arrivano, portano il pezzo in promozione, due paroline e via. Sì, spesso poi le due paroline sono anche le stesse domande a cui bisogna rispondere. Se hai voglia e sei empatico in modo diverso, se no ti becchia anche un po' sempre le stesse. E invece qua io li chiamo, poi dopo gli dico, no adesso tu ti devi far vedere questa parte del tuo carattere, della tua personalità, tiriamo fuori anche quella parte lì e ci mettiamo in gioco e quindi è una mission impossible che poi si crea una magia lì perché non è così facile poi convincere tutti questi grandi ospiti a buttarsi. Perché la paura ferma anche, no? La paura magari di fare qualcosa che è lontano dalle proprie corde. Ma è quello che dicevo, per costruire un brand in generale in tutte le cose ci vuole del tempo. Ormai gli artisti di una certa carattura che hanno fatto e non hanno tanta voglia di andare in televisione eccetera hanno un po' paura perché dicono quello che abbiamo vissuto non è un granché. Quindi hanno sempre un po' paura di essere fregati o comunque di non essere coccolati. Invece è la cosa bella che da noi poi arrivano, ci hanno il maestro Chiaravalle, tutti questi musicisti, l'accio, i ballerini e sono tutti super contenti. In più abbiamo anche la parte ironica, la Gialappas è sempre con noi che commenta, abbiamo tutto il cast fisso di Comici che si ride tanto. Infatti salutiamoci Katia Follese, insomma un gruppo di persone intorno a te che ci sono e su cui anche sai di poterti appoggiare. Ma io lo dico sempre, ma sai da soli non si va da nessuna parte e per me la squadra è tutto e abbiamo creato in questi tre anni una squadra che è veramente pazzesca. Poi i comici sono informissimi, per me dopo il Covid hanno davvero voglia, il comico ha voglia di uscire, proprio di farci ridere. Sì, Fucci, non ti dico cosa non abbiamo dovuto, ogni tanto gli davo i calci nello stinco e dicevo Oh, oh, che calci, piano. Non esagerare. Katia farà un nuovo personaggio apposta per Michelle Impossible, adesso non faccio spoiler, però vi dico solo che è del mondo del wellness, per cui bodybuilding, ho detto tutto. Tu immaginati cosa non succederà e tante tante altre cose. Michelle Unzica è con noi per parlare di Mission Impossible and Friends questa sera. Chi è? Ma due gnocchi così, dove le trovate? Mamma, che complimento! Ma che bello, ragazzi! Detto da una donna, Uella, grazie! Trovane altri, Michi, di messaggi così. Che tirano su, eh! Esatto! Sì, perché noi siamo la radio che fa star bene, per cui... Che bello! Anche per i presentatori, io faccio a volte proprio miauto, dico, ah, senti che bel messaggio che è arrivato, vedi così. Le good vibes! Eh sì, c'è bisogno di questo. Allora, mi stavi raccontando di tutte le novità di quest'anno, anche scenografia rinnovata. Sì! Ma poi so che c'è, con sguardo alla Turchia, questa mega fiction. No, 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 non siamo riusciti a registrarla perché ridevamo troppo. Terra Amara, Lugano Amara. Allora, Terra Amara, grandissimo successo di Mediaset. Mamma mia! Sì, veramente fa dei numeri pazzeschi con tutti questi attori turchi incredibili. Con un'espressività che a noi adesso ci è negata. No, ma veramente! Ma proprio poi con questi momenti intensivi, anche per il nulla. Con queste musiche che partono, si guardano negli occhi. E poi io, quando l'ho visto, i primi tre minuti ho riso. Poi volevo vederlo. Eh certo, volevi andare avanti. Ecco perché funziona. E quindi abbiamo fatto la parodia, come poteva chiamarsi? Lugano Amara. Lugano Amara. Ma con un cast, Lucy, che tu non hai neanche idea. No, ma io penso, scusa, perché voglio sottolineare. Lugano Amara, io quando l'ho vista la prima volta che sono andata agli spippo, lo do un po' con dietro proprio Greenback, ma con dietro Lugano. Lei, Lugano, panorama. In Terra Amara è il cavallo che si alza, io ho la mucca che si alza. Poi con un cast abbiamo Claudio Santamaria, che sarà il mio amato, il mio grande amato, con baffo. Abbiamo Claudio Amendola, cioè veramente tutti, Katia, Alebetti, Scintilla, tutti quanti che partecipano. Albano che fa dell'incursione. Ah vabbè, c'hai Albano che fa, che personaggio fa Albano in Lugano Amara? Certamente ha a che fare con una cosa di terre, perché poi c'è una trama, eh? C'è tutta una trama, c'è Auri, Auri che sarà con lei che mi vuole ostacolare nel mio amore, mi vuole uccidere proprio. Ti vuole zanzare Santa Maria? Sì, vuole zanzarmi Santa Maria. No, anzi, no, non vuole zanzare, io voglio prendermi Santa Maria, ma devo sposare Alebetti. Sì? E lei vuole stare con Alebetti. Io sono contenta, però ce la stai raccontando tutta. No, vabbè, ma perché dovete sapere, perché ragazzi, potrebbe essere che qualcuno la voglia produrre. Ma io ti pregherei di tenermi in considerazione per un'eventuale produzione esterna. Solo se ti piacciono i baffi, perché anche le donne hanno i baffi, come tutti gli attori di Terra Amara. Ho notato, se ti devo dire la verità, adesso purtroppo qui non si può fare un avvicinamento, ma io non ho mai tolto i baffetti, quindi c'è già una base. Ma dove che sei bionda? Te lo giuro, mi avvicino? Qualcuno no? Vedo un Kaiser. Beh, beh, un'ombra. Beh, dici tu, perché quelli che non sono ombra, gli stirpo. Ma che brava che non li togli. Ma li ho tolti, perché in realtà c'è una storia triste. La volta che li ho tolti, perché un mio fidanzato mi disse, vabbè, però io ho un po' di baffetti, al posto di rispondere di ciao, vai, ho detto, vabbè, provo a toglierli con mia mamma. Ah, poi se lo fai una volta lo devi fare sempre. E subito l'igufa. Mi è venuto un labbro così. Perché hai sbagliato tipo cera. No, e a me vengono le herpes con niente, quindi herpes quadruplo delle labbra così per mesi. Mesi no, ma tipo tre settimane. Vabbè, tu sarai la prossima attrice di Lugana Mara, perché tu hai i baffi veri. Io ho i baffi veri, ragazzi, basta. Basta soltanto passare sopra un po' di per me di scurente e io ce li ho. Beh, che bella, che bella cosa. E fermiamoci al baffo, cara Mish. Lascia stare, perché già mi sono venute otto battute che non si possono fare. Ce n'è una che dico sempre di noi, dilla. Beh, anche la legge della capinera, anche la bionda cera nera. Ah, che bebrava legge della... Con questo, ragazzi, io mi sento di andare sul disco. La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene... Ti fa stare bene... Allora, tu adesso lo dicevamo prima. No, questo è un momento che è dedicato alla canzone che ti fa stare bene. Perché con te poi uno diventa incontenibile. Io starei qui a chiacchierare... Anch'io! Ottanta d'ora, eh. Allora, questo è un momento che piace molto. Ce lo siamo inventati noi ed è il nostro pubblico che sceglie la canzone che gli fa stare bene a lui, no? Allora, adesso io te lo chiedo a te. Scegli la tua e spiegaci perché quella ti fa star bene. Va bene, allora, sarò bella, bella concisa, nel senso che tutta la vita è segnata da colonne sonore per me. Io vivo con la musica. Per me la musica è la cosa più importante. Quindi c'è stata una canzone che ha segnato l'introduzione ai lenti e ai limoni negli anni novanta, nei primi anni novanta, fine anni ottanta. No, primi anni novanta. Sì, novantate così. Non lo so quando tu abbia dato il tuo primo limone, però occhio perché poi... No, e lì, niente, Lionel Richie ha proprio fatto il suo con Hello e quando io sento questa canzone c'è un misto di gioia, malinconia, nostalgia e sì, voglio proprio limonare. Beh, ma è lo struscio Lionel Richie, è il disco struscio. Vabbè, non c'era nessuno con cui tu potessi limonare, però ci abbiamo pensato. Però abbiamo detto cose che non si potrebbero mai più dire adesso qua ai microfoni. E' vero. Cioè, hai evocato dei ricordi particolari. Ma, 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 è vero. E' così. Senti, parliamo invece di cose sul presente. Allora, ti dicevo prima, quella sigla che non ti si schianta più dalla testa. È Rocco Tanica e Rocco Tanica. Lo salutiamo tanto. Lo salutiamo il maestro. È proprio bello, bello, bello lavorare con lui. Ho un team anche con Danti. A livello musicale sono proprio veramente in ottime mani. E Rocco è andato a teatro e quest'anno ha visto Il Ritorno al Futuro. Ha sentito una canzone che è fichissima, che non conosce nessuno, ma è tipo un inedito di Ritorno al Futuro. Ha detto, no, ma questa è la sigla di quest'anno. E l'abbiamo... Infatti ti rimane proprio Ting in testa, in testa. Poi vorrei fare un giochino con te che mi piace fare perché secondo me è concedere al nostro pubblico delle parti intime, no? Certo. In tanti lo vogliono perché dicono è così vicina, la sentiamo così vicina i messaggi che arrivano. Le tue ultime due foto nella galleria di Michelle sul telefonino. Allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Allora, Cesare, Cesare Augusto l'imperatore, che mi fa le facce adesso così, che fa tutte le facce. È grassottone. È bello grasso da mordere. Poi c'ha questi denti che sono scesi, che hanno una diastasi di un chilometro, tutti arrotondati, che uno vuole solo morderlo tutto il tempo. E poi mi sono arrivate le foto di Katia Follesa, che posterò stasera. Lei farà questa bodybuilder e voi non potete capire, cioè sembra vera. Ha fatto un calco dove ha avuto panichi, ma panico d'attacco, cioè attacchi di panico. Panichi d'attacco, niente, la Svizzera. È la I, come Fiorelli prima. Ogni tanto così io cambio le parole. Panichi Fiorelli. Esatto, e niente, questa è una roba che dovete vedere, ma la vedrete stasera perché è una roba devastante. Vabbè, quindi c'hai già spoilerato qualcosa in più e di questo sono molto contenta. Mi sono andata una ginocchia mostruosa. Invece, senti, non è per, secondo me, forse poi è un caso, però Mission Impossible in Friends, questa sera, prima puntata 6 di marzo, nella settimana della festa della donna. Tu da sempre sei tanto vicina al femminile. Se ti posso dire una cosa proprio da Lucilla, secondo me sei stata la prima e continua ad essere nel mondo dello spettacolo un punto di riferimento perché hai raccontato davvero tanto profondamente della tua vita. Questo magari perché poi è servito a te, ma questo è fortissimo per chi ti segue perché ti sei messa in gioco tu nel narrare il tuo femminile. Per me è un dovere, nel senso che quando tutti noi viviamo delle cose nella vita che ci segnano e io in particolare ho voluto sempre trasformare tutto quello che mi è successo in modo tale da poter poi raccontare agli altri gli errori che potrebbero non fare, che ho fatto io, come donna. E poi il mondo femminile a me è sempre stato molto molto vicino ed è per questo che dal 2007 con Giulia Buongiorno ci occupiamo proprio di violenza contro le donne e tu sei stata protagonista. Sì, incinta. All'inizio all'inizio, incinta, con uno dei nostri spot abbiamo sempre raccontato molto, sono nate due leggi, lo stalking e codice rosso da doppia difesa e quello che io voglio dire è per me l'8 di marzo è molto importante perché il destino ha voluto che mia figlia nascesse proprio l'8 di marzo e quindi c'è il compleanno di celeste ed è una festa molto importante perché dobbiamo ricordare quanto abbiamo fatto, quanto è stato fatto. Per avere i diritti oggi ad essere qui a poter parlare, i nostri diritti sono morte delle donne per avere dei diritti sacrosanti, è ancora grande la battaglia, è ancora molto lungo il percorso perché l'emancipazione è ancora solo una parola ma intanto se ne parla, intanto siamo qui e quindi vai camminiamo insieme donne e uomini. Sì, sì, è per forza perché anche gli uomini, cioè anche, gli uomini di fianco alle donne sono quelli che devono partecipare alle nostre battaglie, ai nostri obiettivi. Mish, grazie davvero. Grazie a te. Grazie di essere venuta qui da me, sono felicissima, ricordiamo l'appuntamento per questa sera su Canale 5, prima puntata delle tre di Mission Impossible and Friends. Sono contenta che tu sia venuta qui, sono contenta di averti conosciuto meglio e di averti fatto conoscere un po' meglio il mio pubblico. Grazie, mi sono divertita un sacco, grazie mille per avermi fatto star bene oggi. Grazie, sono felice. Grazie a te stasera!